Spomanti Italia 2021, Garda, località fantastica del Lago, che in qualche modo ci ha ospitato in questa terza edizione del Festival Nazionale nella quale stiamo trovando un rapporto fra ambiente cittadino e sistema produttivo Spomanti Italia, degli spomanti italiani, è estremamente interessante perché sembra quasi che il matrimonio sia riuscito, che il matrimonio sia perfetto, ma intanto oggi siamo molto soddisfatti di quello che è la partecipazione. Oltre 150 aziende presenti, oltre 300 etichette consegnate dalle stesse, abbiamo fatto talk show, abbiamo fatto e faremo soprattutto degustazione masterclass seguiti da importanti giornalisti e opinion leader, il tutto in un'atmosfera, devo dire, bellissima, che è quello del Lago di Garda.